1, vai, 50, tornate a sinistro seconda, intornante destro, attenzione alle gomme fredde in appoggio destro, 100, segue sinistra 5, dopo taglia e a rail, sinistra in destra 4, ripeto sinistra in destra 4, dopo attenzione destra 2 gira, destra 2 gira, attenzione ancora sacrifica sinistra, in destra 3 stai dentro occhio, 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 sacrifica, tornante a sinistro, su sinistro taglia destra 3 meno, 3 meno e subito sinistra 3 meno subito e destra 4 più, 3 meno, destra 4 più, per sinistra 5 più 30 contossi, 5 più, 5 più, 30 contossi, sinistra, in destra 2 lungo lunga gira questa non ti piace, questa non ti piace ok ok Grazie.